Buongiorno a tutti, oggi è 27 marzo, sto andando a Roma con Giustino, il mio carissimo amico. La distanza, è facilissimo oggi andare ad esempio da San Benedetto, ovunque a Roma, ci si mette un tempo molto limitato, la distanza diventa cortissima. Stavo pensando che noi oggi e sempre abbiamo un sacco di distanze. Le distanze dall'altro, l'altro per noi è distante, a cominciare dall'altro che è Dio, l'altro che è il prossimo. Facciamo una gran fatica ad avere un accorciamento delle nostre distanze. Un augurio per oggi? Vediamo di togliere più possibile la distanza, anzitutto con Dio. Una distanza con Dio si toglie con un'infinità d'amore e con la preghiera. La distanza dell'altro? Eliminiamola un po'. Cerchiamo di essere più vicini al fratello, in un modo che tu sai, tu solo sai. Ciao, buona giornata!